benvenuti a itmo a fast food oggi vorrei mostrarvi un diverso tipo di fast food rapido salutare ancora più importante davvero delizioso ho qui una pentola pressione di fissler che userò tra poco ho preparato gli ingredienti per un piatto che sono sicuro vi piacerà un filetto di petto di pollo lo cucineremo con la pentola pressione lo serviremo con un pesto di erba aromatica o chutney di mango con contorno di verdure stufate la cosa straordinaria di questo piatto sta nel fatto che può essere cucinato in una sola pentola comincerò facendo rosolare il pollo utilizzerò l'olio d'oliva dopo aver insaporito il pollo con un po di sale e pepe i condimenti aggiunti successivamente non rilasceranno lo stesso aroma intenso di quegli aggiunti all'inizio ora controlliamo la temperatura potete sentire lo sfrigolio che indica che la temperatura è perfetta adesso riscalderò il tutto così che il pollo cuoce ad una temperatura maggiore ora aggiungiamo un po di prezzemolo riccio e un po di prezzemolo comune il pollo deve essere rosolato nella pentola in modo uniforme su entrambi lati fino alla doratura ora aggiungerò due fette di zenzero non sbucciato adesso una volta che il petto di pollo è rosolato in modo uniforme su entrambi lati aggiungeremo un po di brodo di pollo e di brodo vegetale all'interno della pentola è riportato un segno di minimo a indicare la quantità minima di liquidi che devono essere presenti nella pentola ora inseriamo il treppiede nella pentola e posizioniamo l'inserto in esso sistemeremo le verdure separatamente i fagiolini le carote e gli scalogni quindi insaporiamo il tutto con alcune foglie di lauro e grandi di pepe bianco infine aggiungeremo un pizzico di sale marino la cosa straordinaria della pentola pressione vita vita premium e la sua facilità di utilizzo questo scopo è previsto un aiuto per il posizionamento allineando i puntini ora è quasi chiusa in questa posizione ancora rosso quando sento che scatta nella posizione giusta diventa verde e sono sicuro che bloccata vita vita tre livelli di cottura il livello 1 ideale per il pesce o per le verdure delicate con poco vapore e pressione il livello 2 e adatto ai filetti di pollo ai piatti stufati o molto importante per un goulash veloce la vita vita premium e presenta anche un terzo livello la regolazione del vapore per cuocere delicatamente a vapore le pietanze senza pressione ora selezionerò il livello 2 ma come posso sapere quando il cibo è cotto me lo dirà il semaforo presente sulla valvola di controllo quando il semaforo è giallo è arrivato il momento di spegnere automaticamente il fuoco e quando è verde imposto il mio timer per quattro minuti sapete cosa sta succedendo all'interno della pentola pressione in questo momento l'ossigeno viene rilasciato attraverso la valvola quindi la valvola si chiude ciò rende possibile la formazione della pressione e tale pressione riduce il tempo di cottura del 70 per cento ma non solo consente anche di preservare più vitamine minerali e l'aroma il sapore risultano molto più intensi bene ora posso scegliere tra tre diverse modalità di depressurizzazione della pentola posso metterla sotto l'acqua fredda corrente oppure posso far uscire il vapore utilizzando l'apposito pulsante presente sul manico o ancora c'è un terzo modo per rilasciare il vapore utilizzando la valvola di controllo posso semplicemente impostarla su questa funzione e nel frattempo dal momento che non ho altro da fare posso sfruttare questo tempo per riordinare la cucina ok ora diamo un'occhiata al risultato è tutto incredibilmente semplice togliamo ciò che abbiamo inserito il pollo sta ancora cuocendo un po sul fondo è assolutamente fantastico ora disponiamo le verdure le carote i fagiolini qualche scalogno stufato e vi adagiamo sopra le fettine di pollo la lucentezza del pollo indica che non ha perso i suoi liquidi lo eroriamo con un po di pesto il pesto di basilico e con un po di questo delizioso chutney di mango quindi versiamo qualche cucchiaio di brodo e lo guarniamo con un po di basilico thailandese ora avete un'idea di quanto sia facile e veloce usare le pentole a pressione se desiderate saperne di più vi basterà cliccare sulla pagina delle ricette grazie per averci seguito ci rivediamo alla prossima ricetta a presto